La mia colomba made in Sicily c'è il confronto dell'agroalimentare della nostra terra con la grande cultura delle paste acide nordiche, in questo caso le paste acide meneghine proprio. Si parte dal 1953 quando papà con la sua famiglia iniziò a fare le prime granite, le prime brioche, le prime paste di mandorle, Fiasconaro non è famoso per la cassata che è la regina o il principe che è il cannolo, siamo specializzati, conosciuti soprattutto per dolci da ricorrenza, le colombe, il panettone king che è un lievitato per tutte e quattro le stagioni e poi ovviamente anche la tradizione millenaria siciliana del dolce, dalle cubaite ai torroni ai mieli alle confetture, sforniamo fino alla vigilia di Pasqua la media di 4-5 mila colombe al giorno, facciamo 15 gusti diversi, la classica ovviamente la fa da padrona, quindi gli aranci dal fresco con le mandorle ovviamente di Sicilia, l'ultima creazione è appunto la scioccozza di Modica con una semi canditure di albicocche, facciamo gli ori che sono delle specialità di lievitati di pasta pandoro con una crema a parte, quindi la manna, facciamo una crema al caffè, facciamo una crema al pistacchio ovviamente di Sicilia e quindi c'è abbastanza assortimento di 15 lievitati da ricorrenza, in questo caso per la Pasqua. Grazie